salve a tutti quanti ragazzi benvenuti in questo non episodio di della dns tech pack e qui con me c'è gabriele prg e io sono il teschio guardate mi sono non ho mangiato per una settimana quindi guardate come sono dillo che è trombato come un caino se dimagrito fino all'osso la mia faccia la mia risposta sarà questa sì ok ragazzi abbiamo fatto un sacco di cose interessanti in questi episodi adesso dovremmo dire che cosa vogliamo fare in questo episodio in questo episodio non faremo niente mi faremo solo così ti fisseremo tutto l'episodio così davanti dietro davanti di dietro tutto l'episodio così quindi ciao ragazzi alla prossima secondo me ti conviene invece fare qualcosa in questo episodio oh mio dio quanto sei grosso abbassato aiuto sono racconafobica mamma un raggio gigante hanno il ddt no devo scappare c'è il ddt muori bastardo ok che buco di culo che hai ah 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 c'è un culo grosso cos'hai da offendere buzza lavalo cosa sei mu fuffi ciao fuffi no eh facciamo comunque ragazzi facciamo qualcosa di costruttivo invece di cazzeggiare perché voi volete vederci ok qua ho fatto cinque diamanti vediamo un po vediamo un po li ho messi nella cesta eh ma vangulo allora ce ne abbiamo nove adesso perfetto qua invece ragazzi dobbiamo spiegare il macchinario un sacco di cose nuove perché qua dobbiamo spiegarlo allora in pratica cosa abbiamo fatto il query fuori che adesso vi faccio vedere il tito 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 sta scavando e come vi avevo anticipato ho fatto i motori force engine che vanno a lava e acqua tramite questo tubicino blu qui sopra e le trasporta corrente riceve dal canale 1 e l'altro su sui motori in casa trasmette sul canale 1 quindi questo sta ricevendo corrente cosa fa scava come potete vedere qui questi tubi volendo si potranno mettere uguale a questo qua che teletrasporta però gli items quindi si fa senza queste barre rosse ma diventa solo bianco e blu però noi abbiamo fatto direttamente con i tubi e sinceramente perché non ci ho pensato comunque vanno fino in casa e vanno fino a qua sotto se riuscirò a arrivarci ok in quel tubicino lì di diamante come vedete stanno già arrivando se qualcuno se quel cane si toglie ve lo faccio vedere anzi si trasformiamo in gallinaceo che lui odia essere gallina in questi giorni perché mamma mia quanto lo odio comunque ragazzi guardate lo che carino qui sotto come vedete in automatico questo qua di diamante gli ho detto che sulla parte bianca quindi qua la vedete grigia ma è bianca vabbè quella deve andarci solo cobblestone sabbia e terra anzi impreciso è terra cobblestone sabbia comunque e vanno su sul nostro duplicatore esatto quello che in pratica da la roba infinita per per duplicarla in poche parole bravissimo quello azzurro quindi abbiamo i generatori di cobblestone qua sotto più il query che ci manda tutta questa merda su e il resto come vedete adesso la sandstone andrà dritta che bello perché ecco anche quella dovevamo mettere nel coso che in pratica questo qua è come un filtro è un filtro no come vabbè ma la questa qui la sentro come si chiama quella sandstone e non dovevamo metterla nel macchinario per sì ma siccome ancora non ce l'avevo non l'ho potuta mettere io posso mettere sui materiali che ho ovviamente invece in quest'altro filtro qui cosa gli abbiamo detto di mettere tutti i materiali tipo ferro oro no adesso noi abbiamo detto un cazzo gli abbiamo solo detto che deve mettere il copper che l'ho appena fatto che non ho gli or quindi se tu vai nella cesta di diamante e vai a prendermi un po di or li mettiamo qui sotto e in pratica in questo preciso istante se guardate all'interno vedrete solo il copper quindi cosa succede solo il copper gira sul giallo quindi a sinistra aspetta ti devo dare l'or gli or quindi il l'iron ore il gold ore tutto quello tutti gli ori quelli che in teoria vanno tutti i cubi quelli diciamo ancora da cuocere no che succede ho messo un blocco dove sono una gallina non posso devo trasformarmi in enderman comunque ragazzi stavo spiegando che in questo giallo io gli ho detto di andare qui sotto e come potete vedere va nella cesta di diamante di sopra che in pratica è sopra l'opper e l'opper è sopra al maceratore quindi in automatico quando pescherà copper in questo caso e poi tutto quello che gli metteremo quindi ferro oro alluminio bronzo e tutto quel che sia in automatico va nel maceratore si duplica perché maceratore macerando da invece che una un lingotto da due polveri e due polveri poi li mettiamo nella fornace abbiamo due lingotti quindi duplichiamo i gli oggetti che scaviamo e in più recuperiamo sabbia terra cobblestone e tutto quello che vogliamo fargli bruciare per duplicare altri oggetti quindi ragazzi avremo oggetti infiniti anche sto arrivando ok però non è che c'è tutti i materiali proprio quindi vabbè dammi quelli che hai per adesso dove sei un pollo 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 non combina guai ecco ti qua a ti do uno di questo vomita vomita uno di questo uno di questo e uno di cazzo li sta mettendo sono dietro di te e io non li vedo non li prendo boh chiaro abbiamo persi e mi sa ma come puoi vedere che sono andati sopra porca vacca vabbè meno male che ce li ho ancora ma vabbè fai tasto destro nell'affare giallo nell'affare giallo dove sei nel cosa di diamante grazie mi hai dato una mano ma in questo dove sei tu davanti si fai tasto destro e nella parte gialla bravo quello è ferro anche sul primo slot mettilo no allora questo qua il peridot or non funziona il l'uranium neanche e l'osmium non credo questo neanche hai preso tutto quello che non serve e beh ma sono quelli ma chi cosi e no c'è ancora oro c'è ancora silver c'è allora ora è silver io guardo tutte le cesse non c'è niente ok allora dobbiamo ancora scavarlo quindi ragazzi per adesso abbiamo solo copper e iron quindi quando scava copper iron va in automatico il maceratore si macera andiamo a casa boom baby comunque ci ritrasformiamo perché così siamo troppo troppo bassi guardate come cresco ok e questi qua invece dove li metto una gallina una gallina cosa questi che c'ho in mano è un pollo non vedo niente vomita questo che cacchio allora il copper ore possiamo metterlo sotto l'uranium no peridot no vietno no e ora non lo serve se non lo puoi cucinare e l'uranium dobbiamo vedere si fa con non serve un cazzo ah nel maceratore si macera e diventa crash d'uranium quindi si possiamo mandarlo nel maceratore perfetto sì l'uranium possiamo mandarlo in maceratore vai più indietro quindi facciamo così che facciamo prima perfetto tasto destro l'uranium possiamo metterlo quest'altro tipo di copper possiamo metterlo il peridot vediamo un po' ah ragazzi per vederlo basta che ci passate sopra col mouse e premete u però con il peridot non mi dà una mazza col vietnam al vietnam va direttamente nella fornace quindi non va nel maceratore peridot si vinteum al massimo poi lo chiamo vietnam mi viene più facile allora or peridot l'osium l'osium invece può andare nel maceratore tu hai detto prima or peridot giusto peridot or si qua dice che l'or peridot diventa un'altra cosa cioè diventa o è quello con i pallini verdi o diventa quello lì con le linee verdi chiaro si però dove lo stai vedendo su cliccando il peridotore clicco u e mi fa vedere che bisogna credo usare l'or direzionari cos'è del genere ah no l'or direzionari è solo un trasformatore che da come si chiama o a me ragazzi non me lo fa vedere non capisco perché u e u non mi dice una mazza r e mi dice che da il peridotore del nether mi da due di questi che infatti io raccolto quello del nether l'ho messo nella fornace e me ne ha dati due però con questo che minchia ci faccio niente quindi ragazzi sono per adesso solo per bellezza poi se scoprirò come utilizzarli ve lo farò sapere in teoria ci dovrebbe dare questi qua però boh proverò poi a metterli nella fornace anzi proviamo subito eh il mio piccone fornace peridotore non si cuoce il col sarebbe carbone vero? col è carbone si ok aspetta quindi qua abbiamo messo il tutto quindi il peridotore non si sa cos'è l'uranium abbiamo detto che lo mettiamo lì questo lo mettiamo ah vediamo il vietnam ho detto ah direttamente nella fornace ah no anche nel polverizer quindi pure questo qua si può mettere perfetto quindi per adesso tutti i materiali tranne il peridot che non si sa che cazzo serva si possono mettere nel pulverizer quindi lo mettiamo qua sopra eh quel macchinario perché non lo facciamo in modo tale che l'acqua la tolga? non si può mai togliere quel macchinario non può togliere l'acqua e poi l'acqua bisogna lasciarla perché se per caso c'è lava quel macchinario che si chiama query non scava si ferma invece con l'acqua diventa o cobblestone o ossidiana quindi la scava e continua fino alla bedrock va bene tutto lì eh vogliamo dire qualcosa che abbiamo fatto visto che abbiamo messo delle cose nuove ah si è vero allora ragazzi qui sotto ho fatto l'acqua infinita con questo water pump pipe che è il 516 2.0 mi porta l'acqua in questi due dynamo ehm magmatic dynamo qua è una ender tank che è sempre quella del nether famosa che mi portava la lava di qua per i motori su esatto e cosa succede? che eh questi motori generano corrente qua questa cosa ci fa gli ah ragazzi adesso faremo i tank per il cook oven perchè il creosote oil è già a metà quindi bisogna fare i tank ecco cosa facciamo in questo episodio quindi eh ci tira fuori tutto qua il cook che crea e generano corrente e mi vanno questi due macchinari che tramite questi due macchinari abbiamo creato quella robaccia là sopra sul tetto che in pratica è solo glowstone liquefatta e l'abbiamo liquefatta con il magma il magma crucible una volta eh fatto col magma crucible in automatico gli ho detto di esportarmela sul sulla sua destra quindi vedi arancione esporta il blu importa e qua invece gli ho detto ovviamente blu importa da sinistra quindi io qua invece ho bruciato redstone perchè abbiamo fatto non mi ricordo più ah gli energy qualcosa ve li faccio vedere energy è questi qua i redstone energy cell si redstone energy cell che si fanno con questo energy cell frame e come vedete fluid transpuser qua mi diceva che ci voleva glowstone invece ci va redstone quindi è sbagliata questa mod qua ma io ho provato a riempirli con la glowstone come dice qui ma non si riempie li ho riempiti con la redstone e funziona perchè io infatti sapevo che andavano a redstone qua mi diceva glowstone ho provato ma non va e quindi sono i macchinari che ci sono qua su in poche parole e la glowstone è un liquido che cioè viene trasformato il liquido e penso che sia l'unico liquido che ha la gravità al contrario quindi sta sul tetto invece che sul pavimento ed è quella cosa che vedete qua infatti potete farci anche queste cose qua che sono colonne di vetro e vi fanno diciamo da luce perchè come sapete la glowstone illumina ecco e quella cosa invece che abbiamo fatto su quella cosa che abbiamo invece niente ha fatto su sono i motori di cui vi parlavo io adesso ve li farò vedere mi trasformo un attimo in bat e non pensate alla battona ma è solo un bat ci siamo trasformati contemporaneamente ok troppo su come potete vedere adesso vi spiegherò il tutto sotto sotto c'è lì a sinistra l'ender tank l'ender tank fa uscire la lava sotto passa sotto i motori e si riempiono tutti i motori di lava di qua invece abbiamo lì all'angolo che adesso non riesco ad arrivarci sicuramente io sì forse da qui no neanche io ci sono arrivato vabbè qua dietro c'è l'acqua infinita come cacchio ci sei arrivato tu lo sei solo tu qua comunque qui come vedete c'è l'acqua infinita sono sempre i soliti 4 cubi d'acqua qua c'è sempre la solita pompa che mi prende l'acqua me la porta in tutti quei tubi d'oro e mi porta sempre acqua continuamente nei motori quindi facendo tasto destro nei motori se non laggo eccolo c'è lava e acqua a palla con al centro le leve per accendere tutti i motori contemporaneamente quindi bastano 5 leve per accendere 11 motori sopra ci sono tutti i pipe di legno che sono i kinesis pipe adesso una volta si chiamano wooden electric pipe una roba del genere adesso l'hanno cambiato nome wooden kinesis qualcosa sì adesso ma una volta si chiamavano diversi comunque con quelli di diamante perché sono quelli che trasportano più corrente in assoluto o li ho collegati perché i wooden funzionano solo uno se mettere due wooden a fianco come vedete non si collegano si collegano solo tramite questi qua di diamante o coble sono quello che volete però i diamanti sono quelli che portano più corrente vanno su questo che teletrasporta come vi ho fatto vedere send only quindi invia solamente sulla frequenza 1 al query al query che sarebbe quel macchinario che avete visto in fondo nell'acqua sia all'inizio della puntata comunque vando alle ciance facciamo i tank che Grazie per la visione 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 Grazie per la visione